non si ha Shortly non si sa bene ma iscrivetevi si si sa bene ette se l'abbiamo ma non lo ha detto come ho detto che sono patato con il pepero e adesso mi ha detto che non è rapato guarda che sono patato e la macchina è rapato e la macchina è rapato è tutto un peccino rapato Why the heck are you guys attacking me? Well, goodbye. Woosh. It's 234 videos. We're still on the third day. I'm on the third day. I'm not sure. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's a little bit too. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.